il concetto stesso di terroir nasce con il vino di borgogna questa è la regione che forse più di altre al mondo è riuscita ad esprimere fino in fondo il territorio attraverso i suoi vini siamo nella parte centro nord della francia in quell'embo di terra un canale quasi che va da lione ma con per la precisione fino a disone qui il territorio è disegnato come spesso accade in francia da un fiume il fiume sauna che poi va ad immettersi nel rodano siamo in un territorio che si accompagna piano piano in altre grandi regioni vitivinicole se pensiamo alla parte nord della borgogna se perdiamo pensiamo lo sabì quindi la patria del dello chardonnay fine ed elegante siamo al confine con la champagne tocchiamo la cote bar se guardiamo invece il versante ovest siamo vicinissimi alla loira se guardiamo a sud parte il bosolet quindi questo territorio borgogna non borgogna andiamo a toccare il rodano queste sono condizioni importantissime anche per il clima che si va a sviluppare nella regione consideriamo che la parte nord dove troviamo la cote d'or ha un clima più continentale più freddo l'influenza oceanica si fa sentire appena appena di tanto in tanto però la conformazione proprio della cote quindi di questa fila di colline permette di difendersi dai venti freddi del nord ovest e di avere un'esposizione ideale che è sempre est sud est e quindi permette al all'uva di avere un'esposizione al sole perfetta per arrivare ad avere le maturazioni necessarie se scendiamo più più a sud abbiamo un clima che va verso un influenza un po mediterranea dobbiamo considerare che il cosiddetto canale del rodano permette sì ai venti freddi di scendere verso la costa permette anche un clima leggermente più mite di risalire in determinati periodi dell'anno quindi dal mediterraneo e di andare a influenzare leggermente quella che la parte sud del della borgogna quindi quella che è il macconè qua abbiamo dei suoli che sono tendenzialmente un po differenti rispetto a quelli classici della borgogna perché abbiamo della presenza di granito estremamente importante quel granito rosa che poi ha caratterizzato parte del bogellet ma che caratterizza anche le grandi zone le grandi aree evocate del rodano per intenderci e qui il gamè trova la sua massima espressione non tanto appunto il pinot noir che preferisce il clima continentale del del nord lo chardonnay trova nello chablissan un suolo leggermente differente rispetto a quello classico di borgogna ovvero una componente di gesso estremamente importante che poi si traduce in questa bellissima eleganza finezza questa grande freschezza al palato quando parliamo di borgogna però immaginiamo immediatamente un suolo che è ricco di calcare di argilla e anche di marne è un suolo che tende a non essere così differente nella sua composizione soprattutto se parliamo di cotto or quindi dove abbiamo la cotta noi e la cotta ben che la parte con continuità di vigna più a nord di nuovo l'oxerroise lo chablissan sono in realtà un po separate rispetto alla parte centrale produttiva ecco qui che cos'è che fa effettivamente la differenza oltre l'altitudine anche la texture vera e propria del suolo ma anche il ph l'attitudine estremamente importante siamo in un territorio abbastanza a nord con temperature rigide fredde che favoriscono il pinot noir ecco qui però non andiamo mai veramente in montagna o in alta collina quando parliamo di altitudine parliamo di massimo 300 metri sopra il livello del mare e abbiamo quattro fasce importanti che vanno a determinare anche la qualità che potremmo esprimere con l'uva coltivata nella parte a valle si tende a fare più il regionale quindi andiamo a fare i borgogna tendiamo quindi ad avere un'uva che non è di grandissima qualità e spesso e volentieri lavoriamo su vigneti misti salendo iniziamo ad avere poi la fascia del premier crew quindi stiamo stiamo salendo anche a livello qualitativo nella fascia un po più alta considerata la medio alta collina invece abbiamo i grand crew grande esposizione la il suolo è perfetto è estremamente drenante abbiamo un po più di ventilazione ma siamo sempre protetti dai venti freddi grazie alla cot quindi ricordiamoci che tendiamo anche ad avere questa esposizione che sempre est sud est e poi abbiamo la fascia invece più vicino al bosco perché nella parte alta della cot in quello che potremmo definire il quasi il plateau della collina abbiamo una componente di bosco importante che è vero che valorizza al massimo quello che è la fauna e la flora territoriale e anche quello che è la carica dei micro batteri e dei lieviti che possiamo andare a trovare ma è anche vero che non garantisce esattamente il tipo di temperatura e disposizione che vorremmo e quindi questa fascia tende a non essere inclusa nel grand crew quindi a non esprimere alla massima qualità che la borgogna può offrire questo mondo quindi abbiamo fondamentalmente un clima più continentale nella parte nord leggermente mitigato nella parte sud è un clima diciamo un po intermedio nella parte centrale lo chablis è caratterizzato insieme all'oxerrois dove troviamo i grandi creman quindi gli spumanti da un clima molto rigido da un suolo estremamente gessoso ed è per questo che la spumantizzazione oltre appunto a di chablis quindi i chardonnay super eleganti trovano qui la loro perfetta collocazione spesso e volentieri in etichetta quando parliamo di borgogna non troviamo neanche l'indicazione del vitigno volte è indicato ma spesso no perché identifichiamo immediatamente nella borgogna il pinot noir quando troviamo poi borgogna blanc ovviamente facciamo riferimento allo chardonnay almeno questo diciamo è l'immaginario collettivo perché qua abbiamo trovato la massima espressione di questi due vitigni la parola terroir al suo interno custodisce non soltanto gli aspetti di territorio ma anche quelli legate all'uomo al suo ingegno alla sua innovazione e al folklore quindi alla tradizione la borgogna ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi entrambe le cose sia tradizione che innovazione sia folklore e storia che prospettiva cerchiamo anche di capire come è diventata così grande tanto l'uomo è riuscito a valorizzare al massimo questo territorio già dai albori dobbiamo considerare che già i celti coltivavano uva e pino noir il pino nero è comparso in epoca antichissima sono stati poi i borgondi e i romani a sviluppare ulteriormente quelle che erano le tecniche antiche di vinificazione ma lo dobbiamo sicuramente ai monaci cistercensi benedettini il fatto di aver portato il livello qualitativo della borgogna e anche una consapevolezza dei microclimi interni ai vigneti ad appunto alla sua massima espressione dobbiamo considerare che già nel seicento la abbazia di bez famosissima perché siamo a ghevre e sappiamo che napoleone buonaparte era appassionato dei vini provenienti dai vigneti che appunto circondavano l'abbazia un altro aspetto importante per far capire quanto è stato forte il legame tra il la viticoltura l'enologia e lo stesso tessuto sociale e il fatto che i comuni piano piano hanno preso i nomi dei vigneti ghevre conosciuto come ghevre chan bertin in realtà si vaghebre chan bertin era la vigna la vigna di un certo bertin ed è in funzione di questa vigna che il villaggio è diventato così famoso che hanno deciso per ragioni di marketing appunto di includere nel nome anche il riferimento al vigneto ad ogni modo ritornando all'antichità sono stati appunto i monaci a iniziare a intuire per primi che i vigneti si esprimevano anche al loro interno in maniera differente a seconda dell'esposizione dell'altitudine e della texture e quindi anche del ph del terreno stesso hanno cercato quindi in qualche modo di valorizzare al massimo questo aspetto creando i primi club e andando a individuare alcuni leo di quindi hanno cercato di vinificare in maniera separata delle micro particelle cercando appunto di capire quelli che potevano essere le varie differenze nel vino questo modo diciamo che questa è una sorta di zonazione ancestrale non precisissima però si è andati a definire intanto i villaggi e le espressioni differenti dei villaggi e poi abbiamo iniziato a distituire alcuni vigneti leggendari i monaci hanno gestito il mondo borgogna fino alla rivoluzione francese con la rivoluzione francese la negazione del potere ecclesiastico si è andati poi a confiscare alla chiesa tutti i vigneti andando a confiscare poi ci sono state delle vere aste delle aste in cui si è venduto micro particelle e quindi quelle che erano dei vigneti detenuti fino a quel momento della chiesa sono stati rivenduti alla borghesia e ai negociano questo modo si è frammentato ulteriormente il panorama vitivinicolo della borgogna andando a creare vigneti anche di mezzo ettaro neanche un ettaro due ettari al massimo quindi questo ha permesso la borgogna di diventare estremamente frammentata tant'è che la valle nel 1860 ha cercato di individuare effettivamente attraverso questi clima la zona azione vera e propria andando a decretare quelle che erano le caratteristiche delle vigne leggendari e la già la parola prima comunque ci fa capire ci fa comprendere che stiamo facendo riferimento a un clima vero e proprio perché in borgogna più che in altri territori allo stesso allora all'interno lo stesso vigneto abbiamo espressioni nettamente differenti con lo stesso vitigno e risultati completamente differenti anche al palato e da un punto di vista organolettico quindi si è cercato già in antichità di andare a lavorare su questo concetto un concetto che oggi diventa estremamente moderno e che il mondo intero cerca di mutuare con il concetto di cru o dimensione geografica aggiuntiva qua però siamo andati poi a lavorare anche su un livello gerarchico individuando quelle che erano le massime espressioni le massime qualità pensate appunto a quello che può essere il prezzo di un ettaro di vigna in cotto or che arriva fino a quasi 10 milioni di euro o i vini del di romane conti che da appunto dalla vigna romane conti che la vigna più importante la vigna leggendaria possono arrivare a costare anche più di 10 mila euro quindi abbiamo dei valori riconosciuti a quella che è una zonazione una differenzazione che dipende si dal territorio ma che è stata comunque studiata e portata avanti nel tempo dagli uomini se questo ci permette anche di capire quindi le piccole dimensioni e l'estrema frammentazione dei vigneti di borgogna dobbiamo anche cercare di capire qual è stato il ruolo non solo della natura ma anche dell'uomo nel determinare quelli che sono i vitigni che oggi si trovano nella regione dobbiamo considerare che il gamè era in assoluto il vitigno a bacca rossa più diffuso molto più del pinot noir proprio perché il pinot noir era un vitigno ostico difficile da lavorare mentre il gamè tendeva a essere estremamente produttivo in antichità si prediligeva ovviamente una iper produttività anche perché il vino doveva essere un sostentamento ma fu filippo l'ardito duca di borgogna nel 1300 a bandire gamè non apprezzava particolarmente quelli che erano i risultati anche perché il suolo di borgogna soprattutto nella parte settentrionale nella parte centrale non era effettivamente adatto alle massime espressioni di finezza di qualità del gamè e lo bandì quindi venne estirpato completamente e obbligò i contadini e anche gli stessi monaci ad andare ad impiantare pino noir al posto del gamè quindi è da lì che si inizia a instaurare questa liaison molto forte molto interconnessa tra il mondo dei produttori di vino soprattutto appunto i monaci le abbazie e anche i contadini e il pino noir è così che nasce la leggenda della borgogna